la schermata inerente alla lezione odierna, un attimo di pazienza, eccoci qua, e tra pochi secondi dovreste vedere proprio la schermata iniziale appunto della lezione di oggi. Quindi dicevamo quest'oggi parleremo di George Braque e dopo aver introdotto lungamente il discorso cubista, non si può quindi non parlare di colui che insieme a Picasso rivoluzionò a fondo tale movimento fondandolo con estremo impegno e creatività. George Braque nasce ad Argentoil sur Seine il 13 maggio 1882, svolgendo fin dall'inizio la sua vita sotto il segno dell'arte. Infatti il padre, che era decoratore murale, lo spinge a frequentare l'Accademia di Belle Arti presso Le Havre, nella Francia del Nord, frequentando così i corsi serali dell'Accademia dal 1897 al 1899. Poi George Braque si trasferì a Parigi, città ovviamente cruciale per gli artisti del secolo scorso, dove fu apprendista presso un maestro decoratore ed ottenne l'abilitazione al lavoro artigianale nel 1901. Dunque non solo ovviamente studio dal punto di vista artistico visivo, ma anche studio del aspetto più artigianale dell'arte. Infatti appunto dal padre decoratore, poi anche a Parigi, studia presso un altro decoratore per ottenere l'abilitazione appunto nel 1901. E questo rapporto tra artigianalità e artisticità lo troveremo un po' in tutta l'opera di Braque, che vediamo nel 1908 in questa fotografia pubblicata in The Wild Men of Paris in Architectural Records nel maggio 1910. Dunque capiamo che già nel 1908 George Braque era considerato uno degli uomini più influenti, anzi degli artisti più influenti proprio nella capitale francese. L'anno seguente poi, siamo nel 1902, si iscrisse all'Académie Humbert che frequentò fino al 1904 e dove incontrò Marie Laurencin e Francie Picabia. Ovviamente insieme a loro e a Picasso fondò il movimento cubista. In quel periodo Braque scopre la forza espressiva dell'arte africana raccolta a Parigi nel museo etnografico del Trocaderò. E le sculture in legno appunto provenienti dall'Africa, le maschere e i totem essenziali e carichi di energia, gli fanno capire come l'arte non debba necessariamente rappresentare le forme del reale nei minimi dettagli, ma trasfigurarla. Ciò che conta dunque è riuscire a catturare come per magia un frammento di realtà e a comunicare l'intensa emozione provata dall'artista nel farlo. Come fare però tutto questo? C'è bisogno di un percorso che deriva sempre dall'espressività appunto della pittura fauve. Durante l'inverno del 1905-6, dopo essersi formato presso le Col des Beaux-Arts di Parigi e subendo l'influenza sostanziale di Henri Matisse, cominciò a dipingere alla maniera appunto dei fauve, ricorrendo all'uso sempre di colori brillanti e sfruttando la libertà della composizione. Dunque, come prima opera, vediamo proprio il paesaggio vicino ad Anversa del 1906, oggi custodito presso il Guggenheim Museum di New York. E qui il legame coi fauve è palese, non solo nell'uso dei colori timbrici, appunto acidi, dal punto di vista dei toni gialli, ma soprattutto è palese anche nel fatto che c'è ancora questo legame, diciamo, realistico, oggettivo con il paesaggio che non sparisce ancora dalla composizione, ma viene trasfigurato proprio grazie a questi movimenti sinuosi e a questi colori secondari e complementari che in contrasto vanno a determinare tutta la profondità del paesaggio stesso. Notiamo una divisione netta, molto interessante, tra la parte inferiore, contornata sempre da queste linee abbastanza pesanti, come era nello stile dei Faux, e la parte superiore del cielo invece con queste pennellate molto più larghe, molto più espressive, che offrono una connotazione completamente differente dalle opere di Matisse nel primo Brac. Sempre di questo periodo è il ciclo, il famosissimo ciclo dei paesaggi delle stack. Questo ciclo lo avevamo citato la volta scorsa quando parlavamo appunto del nome cubismo, che si pensava nato da una critica di Louis Vossel proprio su questi dipinti di Brac, invece poi abbiamo scoperto appunto che era stato lo stesso Matisse a incominciare questa nomenclatura di cubismo proprio dicendo, guardando un paesaggio di Brac, voilà le cube. E appunto in questo periodo, dicevo, fanno parte il ciclo dei paesaggi alle stack, questo che stiamo vedendo nel 1906, oggi custodito presso il Guggenheim Museum di Bilbao. Nette differenze dal paesaggio vicino ad Anversa, perché come vediamo la risoluzione del quadro è molto più piatta, i bordi, i contorni della vegetazione sono leggermente più marcati e tutta questa sinosità che dal cielo poi in maniera circolare si ripercuote anche sul terreno attraverso appunto le chiome degli alberi e attraverso le proprie ombre, crea tutto un movimento unico che va verso una sempre più marcata trasfigurazione del paesaggio che qui è veramente ridotto alla maniera più essenziale. Non solo un movimento diciamo di progressione da questo punto di vista della semplificazione delle opere, ma anche un ritornare indietro ogni tanto per modificare la tavolozza oppure per aggiungere sensibilità con la cromatica al proprio operato, come per esempio in un altro paesaggio delle Stac, sempre del 6, che oggi è costruito presso il Centre Georges Pompidou di Parigi. Qui notiamo il ritorno del paesaggio proprio realistico, già però gestito con questi piani molto visibili, molto netti, che riportano la mente alla pittura di Cézanne e poi ci parlano già di questo cubismo in nuce che sta nascendo. Tutto questo però è mediato sempre da questi piccoli tocchi di colore alla maniera matissiana che dal cielo appunto si riflettono nel colore blu-giallo del mare e quindi creano una vibrazione cromatica veramente molto interessante e anche molto molto efficace proprio per il movimento stesso della rappresentazione. Questo ciclo dei paesaggi alle Stac diciamo si concluderà verso il 1907-08 con questo quadro appunto oggi custodito presso una collezione privata dove si nota una metamorfosi ulteriore della pittura di Brack. Infatti tutta quella vibrazione che vedevamo prima sparisce o perlomeno sta per scomparire del tutto grazie ancora a questa chioma gestita appunto con piccoli tocchi di colore puro che vediamo qua sulla parte sinistra del quadro però il soggetto principale è gestito già con piani risolti con una pittura estremamente piatta e dunque il cubismo di fondo comincia a prendere il sopravvento. Infatti siamo giusto nel 1907 dunque nell'anno cruciale di quella retrospettiva di Cézanne che scardinerà ogni tradizione pittorico artistica francese e non solo e dunque proprio in questo periodo nascerà anche la teorizzazione come abbiamo già visto del della corrente cubista in du cubisme. Ma è l'incontro con Pablo Picasso impegnato nello stesso anno nella realizzazione delle damoiselles d'Avignon a segnare in tutto e per tutto la sua vita artistica. Infatti proprio in quest'anno Brack conosce Picasso proprio a una di queste esposizioni del Salon d'Automne nelle quali partecipavano anche i primi cubisti quindi lui Picasso Gris e Marie Laurencin e da questa amicizia poi che durerà parecchio tempo scaturiranno novità sostanziali dal punto di vista artistico nella ricerca della astrazione pura dell'opera d'arte. Astrazione che aveva cominciato in maniera abbastanza presente proprio Picasso appunto nel Damoiselle d'Avignon che è oggi custodito presso il Museum of Modern Art di New York nella ripresa anche di temi classici diciamo della corrente. Dunque ritorna a questo discorso di prendere come soggetto un interno, infatti qui sappiamo benissimo che viene ripreso l'interno di un bordello parigino e in questo interno Picasso appunto sfaccetta sempre di più la prospettiva piatta che è un classico del cubismo e cerca di mostrarci tutta la scena da più angolazioni quindi siamo ancora nel periodo del protocubismo che poi sfocerà nel cosiddetto cubismo analitico dove appunto vi è ancora un riconoscimento della figura, della forma però i piani sfaccettati delle stesse cominciano ad aumentare dunque a complicare sempre di più la visione. Data la complicatezza della struttura ovviamente Picasso cosa fa? Diminuisce i colori quindi abbiamo una dominante di colori rossi rosa sul primo piano che contrastano con gli azzurri blu del tendaggio. Ovviamente c'è sempre una citazione a Cézanne con la natura morta, infatti poi come vedremo e come sappiamo molte opere dei cubisti sia in pittura che in collage o in papier collé andranno a rimarcare proprio questa citazione della natura morta. Quindi anche dal punto di vista cromatico dal 1907 vediamo già quelle particolarità cubiste di andare verso una tavolozza sempre meno sgargiante con colori sempre più tenui i quali devono appunto marcare questa complessità del segno e anche della costruzione. Tutte e due quindi Picasso e Braque imparano molto bene la lezione di un altro grande artista morto da pochissimo infatti morto l'anno prima appunto Paul Cézanne che aveva rinnovato la pittura rappresentando la natura e le cose come se fossero figure geometriche da scomporre e ricostruire. Qui si ritorna alla famosa frase di Cézanne di ricostruire la realtà attraverso appunto il cilindro, la sfera, il cubo proprio per avere perché queste sono le forme che secondo lui gestivano tutte le cose naturali e quindi per avere una esattezza maggiore e anche una diciamo trasfigurazione maggiore del soggetto, lo stesso soggetto che poi dovrà appunto in Cézanne esprimere quello che era il sentimento dell'artista, qui nel cubismo invece dovrà esprimere questo apparato molto scientifico e analitico appunto del pensiero della corrente, cosa che si vede benissimo in Donna con ventaglio del 1908, oggi custodito presso il museo dell'Ermitage di San Pietroburgo, dove appunto qua risulta palese ancora di più il discorso cromatico della sintetizzazione del colore, infatti qua abbiamo a che fare solamente con colori grigi, bianchi e marroni che daranno la peculiarità definitiva alle opere di questo periodo fino alla diciamo all'avvento del cubismo sintetico che poi appunto si muoverà attraverso le invenzioni dei papier collet appunto grazie sempre a Braque e Picasso. anche qui vediamo questo ritorno sempre all'arte africana, infatti proprio in avevano detto che proprio i Faux furono i primi a studiare, a tornare a studiare questa tipologia di arte, infatti poi negli stessi anni tra Fauxismo e Cubismo nascerà anche il cosiddetto movimento primitivista del quale fece parte Henri Rousseau, detto il doganiere, poi definito diciamo incasellato sotto la dicitura di pittore naif. Dunque figure geometriche appunto per scomporre e ricostruire la natura. Ispirandosi alla forza di quest'arte africana e alla geometria di Cezanne, Braque e Picasso creano appunto il cubismo che fu una delle più importanti rivoluzioni della forma pittorica moderna. Ricorrendo ovviamente a volumi geometrici e riducendo la tavolozza come dicevamo alle tonalità del verde e del bruno, Braque cercò di dare forma e di costruire lo spazio esistente tra i volumi della composizione senza l'ausilio di artifici quali la prospettiva e il chiaroscuro. Tutto questo è visibilissimo in Bagneuse, detto anche le Grand Nou del 1908, quindi stesso anno della donna con ventaglio di Picasso, quadro oggi custodito presso il Musee Nazionale d'Arte Moderne, il Centre Pompidou di Parigi. Infatti nel Grand Nou egli costruisce l'anatomia con ampie e brevi pennellate che suggeriscono i volumi chiusi in una spessa e nera linea di contorno sempre ripresa da quella diciamo branca del fovismo riconducibile a Dufy e a Rouault che utilizzavano questa linea molto più marcata alla moda espressionista. Quindi l'azzeramento della prospettiva è palese, abbiamo solo una sorta di tendaggio che è posto dietro appunto la figura della Bagneuse, soprattutto poi abbiamo praticamente questa figura che viene posta al centro della composizione proprio sulla linea verticale in una posizione abbastanza diciamo tradizionale, infatti questa era la classica, una delle classiche posture delle modelle nelle accademie proprio per lo studio del nudo dal vero, quindi sempre un parallelismo tra arte diciamo tradizionale e appunto modernità della stessa. Anche in questo caso come nella donna con ventaglio o come dicevamo la lacromia diventa sempre meno marcata, sempre più appunto sommessa, qui addirittura tutto il quadro è gestito solo ed esclusivamente con i colori terrosi dei Siena e i grigi tendenti all'azzurro, dunque un contrasto di colori caldi e freddi proprio per avere diciamo la tridimensionalità della Bagneuse che poi come vediamo è appunto risolta nel perfetto stile delle maschere africane proprio solo con una linea di espressione. Dunque applicò Braque questi stessi principi di costruzione geometrica come abbiamo visto ai ai nudi, ai ritratti ma anche ai paesaggi e alle nature morte. Dunque Braque fu uno dei degli esponenti del cubismo che lavorò molto sul discorso della natura morta. Tra il 1909 e il 1914 i progressi nell'arte plastica di Braque e Picasso sono favoriti da una proficua amicizia appunto che li legherà per tutto questo periodo di passaggio dal cubismo analitico a quello sintetico. Da questo stimolante connubio nacque una nuova visione dello spazio pittorico che presenta oggetti smembrati e sfaccettature create ancora più in maniera complicata dallo spezzettarsi dei piani, cosa che abbiamo visto proprio la volta scorsa in quella spiegazione molto accurata di Glees e di Metzinger che in du cubism facevano vedere proprio come si procedeva, come il cubista progette procedeva alla scansione spaziale e alla divisione dei piani. È questa la fase del cosiddetto cubismo analitico e lo si vede molto bene in violon e palette, detto anche violino e tavolozza, violon e palette dall'atelier, quadro del 1908, oggi custodito presso il Guggenheim Museum di New York, nel quale si nota innanzitutto una cosa molto particolare, il formato. Il formato come ripetiamo sempre nell'opera d'arte soprattutto pittorica è fondamentale, si inizia da quello proprio per studiare la composizione della rappresentazione anche perché lo stesso formato poi darà il carattere al soggetto. Quindi qui il formato è addirittura di 42,8 di larghezza per 91,7 di altezza, quindi molto stretto e molto alto per permettere al pittore di avere questa linea ascensionale nella composizione. I due temi principali sono la musica e la pittura, tema che ritorna sempre dalla pittura espressionista fino a quella cubista. Abbiamo il violoncello posto proprio sul primo piano in basso e grazie a questa complessità ancora più marcata della distruzione e ricostruzione del soggetto, tutti questi piani sfaccettati ci portano sempre in maniera ascensionale in questa sorta di tumulto fiammeggiante che va dal basso verso l'alto allo spartito appunto quindi al tema del violoncello suonato dal violoncello e poi in ultima battuta alla tavolozza appesa ad un chiodo nell'atelier. Quindi c'è ancora un accenno di naturalismo proprio in questo tronco di albero proprio che riprende anche la questione paesaggistica e dunque qui abbiamo un velato messaggio anche di Brack molto ironico sulla questione della critica verso il cubismo. Dunque appunto attraverso questa tavolozza appesa al chiodo Brack avrebbe voluto appunto suggerire ai critici che potevano benissimo continuare con le loro invettive tanto i cubisti non avrebbero mai appeso la tavolozza al chiodo anzi continuarono sempre più determinati nella modulazione di questa scelta molto moderna dal punto di vista artistico infatti poi grazie a tutto questo nascerà per esempio il futurismo parallelamente che poi vedremo nelle prossime lezioni. Quindi violon e palette è proprio una composizione che dà la possibilità ai cubisti di passare appunto dall'analitico al sintetico. Dunque nello sforzo di rappresentare volumi sempre più complessi per renderli in ogni loro sfaccettatura appunto le tele di Brack divennero pressoché indecifabili a dispetto dell'astrazione che tanto aveva ricusato. Infatti Brack nel primo periodo non era ancora determinato ad approdare a questa astrazione di fondo poi ovviamente conoscendo Picasso cambiò idea e anzi poi come vedremo fu lo stesso Brack a far intuire a Picasso delle novità sostanziali per i papi e collè. Per questo nell'autunno del 1911 egli introdusse nei suoi quadri segni riconoscibili quali lettere e cifre stampate come appunto in Le Portugais cioè L'Emigrante del 1911 oggi custodito presso il Kunstmuseum di Basel nella città di Basilea dove appunto si vede questo passaggio dall'analitico al sintetico perché la composizione praticamente è quasi sparita e al suo interno vengono inserite proprio queste lettere che alle volte suggeriscono anche il tema del soggetto altre volte invece vengono inserite solo per creare ancora più confusione nello spettatore. Grazie a questi inserimenti poi proprio negli stessi anni in Zurigo tra il 1908 e il 1911 nascerà al famoso cabaret Voltaire il movimento dadaista quindi che con le parole giocava in maniera molto più peculiare e che ai pittori e agli artisti cubisti piaceva abbastanza come corrente. Dunque anche in questo caso nelle Portugais abbiamo sempre questo discorso cromatico che viene gestito da Brack solo con i colori bianchi, grigi e ocra. Dunque il colore non deve sviare dal discorso l'occhio dello spettatore dunque i colori rientrano diciamo nella tradizione secentesca con questi colori terrosi che appunto portano all'essenzialità pura della scomposizione appunto del reale. E l'anno seguente sperimentò anche Brack la tecnica del collage che gli consentì di appunto formare una sintesi di elementi diversi per descrivere con chiarezza un oggetto attraverso la dissociazione di forme e colori. La proficua collaborazione tra Brack e Picasso si interruppe per un periodo nel 1914 quando Brack fu chiamato alle armi, infatti poi Brack andò in guerra. Proprio in questo periodo nascono i cosiddetti papier collé, una rivoluzione veramente sostanziale nel panorama artistico, nella tendenza a non più rappresentare la realtà ma presentarla in quanto tale attraverso l'inserimento nei quadri di ritagli di giornale e carte da parati, come ci suggeriva Apollinaire la scorsa volta appunto nelle sue Meditation Estétique. Un periodo che ci è raccontato perfettamente da Denis Ryu nel suo L'arte del XX secolo. Infatti nel primo capitolo tratta proprio questo problema, diciamo, che si passa nel passare tra rappresentare e presentare. Quindi non è più una questione di un artista che rappresenta qualcosa di già esistente ma al contrario presenta quegli elementi esistenti e li trasfigura facendoli diventare un'altra cosa. Infatti Ryu comincia il suo discorso dicendo Al centro di un disegno realizzato nel 1908 Picasso incolla un pezzo di carta forse ricavato da una reclame per il Louvre, grande magazzino noto a tutti, sul quale dipinge una barca in modo che appaia in lontananza tra due bagnanti in primo piano. La scritta tipografica o Louvre posta sul verso rimane leggibile. L'artista gioca evidentemente sul doppio senso della scritta ma un simile ricorso al collage resta un episodio isolato nella sua opera, oltre che circoscritto nel tempo e non si discosta molto dagli artifici a volte impegnati da pittori come Turner, quando introduceva in qualcuna delle sue tele un piccolo personaggio precedentemente ritagliato da un foglio di carta. Dunque in questo periodo Picasso non fa niente di nuovo, appunto la stessa cosa la faceva Turner per enfatizzare diciamo il contrasto nelle sue tele, inserendo questi piccoli omini ritagliati nei suoi paesaggi e Picasso appunto prende questi fogli di carta, li ritaglia e li incolla proprio nella scia della tradizione del collage. Grazie a Braque si avrà il salto. Ryu continua, il procedimento utilizzato da Turner è per la sua epoca assolutamente atipico, dunque per l'epoca di Turner, e il divertente disegno o Louvre resta relativamente misconosciuto, mentre la natura morta con sedia impagliata, che stiamo guardando adesso, realizzata da Picasso nel 1912, è famosissima. Oggi è custodita presso il Musée National Picasso di Parigi. Generalmente considerata il primo vero collage, essa deve la celebrità proprio a questo fatto. Due elementi attirano l'attenzione. La composizione, di forma ovale, è contornata da un cordoncino, come a evocare la cornice di un quadro tradizionale. L'illusionistica impagliatura della sedia, inclusa in una natura morta dallo stile tipicamente cubista, non è dipinta. Si tratta di un pezzo di tela cerata il cui motivo imita un'impagliatura, semplicemente riportato sul quadro. Questo frammento di tela, dozzinale e illusionistico, focalizzò l'attenzione del pubblico e degli esegeti. Alcuni rilevavano l'eterogenità dei materiali impiegati, colore a olio e tela cerata. Altri insistevano sul contrasto tra l'immagine dell'impagliatura, una specie di trompe l'oeil, e la trasposizione cubista degli altri oggetti rappresentati dall'artista. Nel suo studio dei rapporti tra Picasso e Braque, William Rubin dimostra come questo collage, opera unica rimasta priva di una continuità diretta, differisca dai papiers collè cubisti, invenzione di Braque subito ripresa da Picasso, il cui uso si diffuse rapidamente sia pure in forme diverse. Dunque, questo viene considerato proprio la prima opera ufficiale di collage nel cubismo e si sfocia anche un po' nel dadaismo, proprio per l'estrema eterogenità del, come ci dice Ryu, dei materiali impiegati. Infatti, anche qui si riprende una sorta di tradizionalità che è il formato ovale, un formato che nella storia dell'arte era sempre stato utilizzato per ritratti oppure anche per paesaggi di un certo tipo. Ovviamente Picasso deve incorniciare il lavoro, ma non usa una cornice ovviamente classica, ma un cordoncino appunto che messo intorno all'ovale ci fa sembrare il tutto quasi come la seduta di una sedia vista dall'alto. Quindi con questo stratagemma cosa decide di fare Picasso? Va a cercare una tela cerata che appunto imiti questa tramatura della sedia la incolla e su di essa dipinge appunto una natura morta. Quindi abbiamo una doppia visione tra un oggetto reale tangibile che sembra appunto una sedia e una sedia finta sulla quale è adagiata una natura morta. Quindi ecco qual è il gioco mentale e visivo che i cubisti portavano avanti nei collage e nei papier collé. Cos'è la differenza? Appunto che i papier collé erano utilizzati, erano formati, scusate, utilizzando solamente carte, soprattutto carte da parati. Dunque si procede sempre a una essenzialità dell'opera anche nel papier collé e cosa che differisce ovviamente dal lavoro di Picasso e proprio questa novità gli verrà suggerita da Braque e ce lo racconta sempre Ryu in maniera molto particolare e peculiare. Dunque Ryu su questo incontro ci dice A Sorge durante l'estate del 1912 Braque realizzava sculture in carta e inseriva preferibilmente nelle sue composizioni l'effetto pittorico del finto legno quando in un negozio di Avignone trovò un rotolo di carta da parati che imitava le nervature del legno di quercia e gli venne l'idea di sostituire l'artificio pittorico con l'impiego diretto della riproduzione su carta. Un modo per preservare la coerenza della composizione cubista per nulla inficiata dal collage qui concepito come semplice artificio tecnico. Quindi Braque in questo periodo del quale fa parte di Natura Morta su un tavolo con Gillette vuole appunto procedere sempre con questo discorso di non più rappresentare bensì presentare la realtà andando in giro per Avignone trova in un negozio questa carta da parati bellissima appunto che imita le venature del legno. Dunque sa che questa sarà la sua cifra stilistica dei papier collé. Comincia queste composizioni e dunque appunto dà la possibilità al collage cubista di fare un salto in avanti quindi essere più essenziale e più appunto asciutto nell'espressione. Ovviamente anche in questo caso ci sono degli inserimenti grafici o pittorici come sempre in questo lavoro oggi custodito presso il Centre Georges Pompidou di Parigi e soprattutto poi vi è sempre l'inserimento di articoli di giornale e addirittura di custodie per la mette da barba Gillette. Quindi anche una sorta di cambiamento proprio dal punto di vista sociologico dell'arte cubista che si avvaleva anche della pubblicità proprio per aumentare questa sorta di spaisamento tra rappresentazione e presentazione appunto degli elementi reali. La differenza continua rispetto alla natura morta con sede impagliata anche se non salta agli occhi è comunque sostanziale e William Rubin ha ragione a opporre nell'ambito del cubismo una logica del collage alla logica dei papier collé. Di lì a poco Picasso in visita proprio da Braque posto di fronte alle recenti creazioni dell'amico in particolare fruttiera e bicchiere del settembre 1912 rimane vivamente impressionato. Appena tornato a Parigi Picasso scrive a Braque Adotto i tuoi ultimi procedimenti papiracei e polverosi Quindi proprio nel 1912 dopo essere tornato a Parigi da questa visita a Braque anche Picasso rimane folgorato da questo portafrutte bicchiere Appunto sempre gestito attraverso queste carte appunto di finto legno che vengono inserite e sulle quali poi Braque va a disegnare dunque ci sono qui degli elementi riconducibili appunto al portafrutta che viene disgregato sempre in maniera cubista e poi al alla frutta stessa no l'uva che viene anch'essa diciamo Trasfigurata e riflessa da una parte all'altra della composizione ovviamente ci sono sempre inserimenti di lettere appunto con questo bar Quindi si immagina anche una sorta di ambientazione appunto di locale pubblico E Picasso appunto come dicevamo rimane folgorato da questa essenzialità da questa asciuttezza di Braque Infatti la differenza era anche questa Braque era più rigoroso e lucido Picasso invece data l'origine spagnola molto più esplosivo e colorato creativo E quindi Picasso torna a Parigi e adotta come dice lui adotterà i suoi procedimenti papiracei e polverosi Perché gli sono piaciuti veramente tanto Infatti proprio di questo 1912 è chitarra, spartito e bicchiere Oggi custodito presso il McNeill Art Museum di San Antonio Vediamo la differenza con la sede impagliata perché in effetti qui Picasso usa solo carta Non utilizza più materiali così diversi Quindi anche lui va alla ricerca di carte da parati utili al suo scopo Ne trova una molto raffinata con questo movimento losangato all'interno Con all'interno questi motivi floreali Che può utilizzare benissimo appunto per questa ambientazione diciamo di musica da camera Con la composizione di una chitarra al centro La quale è costruita solo da quattro pezzi di carta Appunto la tastiera azzurra, il centro bianco e poi la parte inferiore nera Di fianco Picasso disegna la parte superiore del manico della chitarra Che ovviamente non è possibile inserire al di sopra della stessa Quindi lo mette di fianco per farcelo vedere ovviamente sempre in maniera cubista E al di sopra inserisce un pezzo di spartito musicale Proprio per come aveva fatto Brack nel suo violone palette Per appunto dare il suggerimento allo spettatore Che si sta trattando di un concerto da camera diciamo Compreso di spartito Al di sotto c'è sempre questo frammento di giornale Quindi con le journal Che qui funge soprattutto da base diciamo O da tavolo per la chitarra Infatti vediamo che la parte nera della chitarra Si adagia proprio sul pezzo delle journal Per offrire una stabilità maggiore alla composizione Dunque dicevamo appunto che in questo periodo Picasso adotterà gli stratagemi di Brack Poi realizzerà chitarra spartito e bicchiere nel novembre 1912 Introducendovi un frammento di giornale Sul quale si può leggere un titolo riferito alla guerra dei Balcani Ma che suona anche come una sfida amichevole lanciata a Brack Infatti quest'opera di Picasso Con questo inserimento giornalistico sulla guerra dei Balcani Diciamo Picasso lancia il guanto di sfida all'amico E da qui in poi ci saranno tre anni di sfida a distanza Proprio di produzioni di varie opere di papier collé Infatti su quel titolo di giornale si poteva leggere La battaglia s'engagée Quindi appunto Picasso decreta l'inizio della battaglia E in questa battaglia vediamo anche la formazione di bottiglia Di Vieux Marc del 1914 Sempre custodita presso il Centre Georges Pompidou di Parigi Dove ritorna l'essenzialità brachiana della composizione Picasso ovviamente ci fa vedere sempre il tavolino in prospettiva aerea Con la bottiglia di Vieux Marc giusto accennata Infatti vediamo il foro della bottiglia Sempre visto dall'alto Il collo di fronte e poi la bottiglia sfaccettata Ma la nostra attenzione è proprio focalizzata sul pezzo di carta da parati Sul frammento decorativo di frontone Che va a decorare anch'esso il tavolo E sempre in questo frammento di journal Appunto il quale appunto deve suggerirci sempre qual è l'intenzione del pittore E appunto qui vediamo qual è Perché riusciamo a intravedere Internationale Education Physique Quindi in questo caso Picasso vuole suggerire che il suo lavoro È un'educazione proprio internazionale della fisica Forse il giornale parlava proprio di un convegno in questo senso E dunque i due stimolati da una reciproca emulazione Hanno gettato le basi di una rivoluzione artistica Che deve la propria forza più alla qualità nativa delle loro opere Alla loro fulminia riuscita Che alla elaborazione strettamente tecnica Infatti l'elaborazione tecnica è molto semplice Come si può vedere in Natura Morta con bicchiere giornale di Brack Del 1913 Custodito oggi presso il Berggruen Museum di Berlino Gli elementi sono sempre gli stessi Qui però vi è un aumento maggiore della pittura Perché in effetti qua i pezzi di carta sono diminuiti E Brack vuole ritornare a utilizzare una pittura più presente Però sempre in maniera molto sfaccettata Ritorna anche il formato ovale Qui in questo caso in verticale Che ci dona un aspetto molto più ordinato A tutta la composizione E Brack continuerà fino agli anni 50-60 I suoi Papier Collè Come possiamo vedere in quest'altra Natura Morta Proprio del 58 Dove riprende il discorso del violon Come possiamo vedere da questo frammento giornalistico E ritorna ancora al suo primo grande amore Che erano le finte carte da parati In finto legno Dunque Appunto qua una sobrietà maggiore Dal punto di vista di ricerca del Papier Collè Soprattutto però una astrazione ancora maggiore Infatti Brack proprio nell'ultima parte della sua vita Arriverà ad una sintesi completa delle sue composizioni Tutto questo poi piacerà talmente ai due Che negli anni 50 Proprio Picasso Davanti a uno dei suoi vecchi collage Confidava quanto segue a Henri Laurent Dobbiamo essere stati abbastanza pazzi o stanchi Per lasciar perdere tutto questo Avevamo mezzi magnifici Guardate com'è bello Non perché è mio intendiamoci Avevamo questo E io sono tornato alla pittura a olio Voi alla scultura Roba da pazzi Infatti tutti i cubisti dal 1915-20 circa Quindi dopo la prima guerra mondiale Appunto a cavallo e dopo la prima guerra mondiale Tornarono alla tradizionalità della pittura Dunque Picasso torna alla pittura Appunto Laurent torna alla scultura Anche Brack Con in fasi alterne ovviamente Ritornerà a una espressività artistica Molto più tradizionale Avevamo detto appunto Che nel periodo tra il 1909 e il 14 Nasceranno opere memorabili E proprio in questo periodo Come abbiamo già accennato Brack dovrà assentarsi Per andare al fronte Chiamato in guerra Dove venne gravemente ferito nel 1916 E dunque per un periodo Si interruppe anche la sua produzione artistica Dato il ferimento Dopo la prima guerra mondiale Lavorò il pittore autonomamente E sviluppò uno stile molto più personale Caratterizzato da un ritorno ai colori vivaci E superfici a trama E dopo il suo trasferimento Sulla costa della Normandia Offre la ricomparsa anche della figura umana Ritrasse nature morte Vedute di interni E paesaggi marini Di questo periodo sono La serie degli atelier E quella molto più importante Che citeremo in conclusione Degli uccelli Queste due serie Sono una del 1948-55 Quella degli uccelli invece Del 55 al 63 In questo periodo realizzò anche Lavori pubblici Decorativi Come la scultura Della porta del tabernacolo Della chiesa di Assis Nel 1948 O la decorazione del suffitto Della sala etrusca Al museo du Louvre Dal 1952 al 53 Arrivate al 61 Braque viene chiamato Appunto dopo essersi trasferito In Normandia A lavorare presso l'église Saint Valéry Di Varenville-sur-Mer Dove si era trasferito Dunque Braque Deve rifare le vetrate Della chiesa E ritorna al suo primo amore Cioè il fovismo Con questi colori Molto più accesi E anche una sorta Di naturalismo Della figura Qui vediamo L'albero di Gesse Proprio della vetrata La vetrata scusate Della navata laterale Della chiesa Di Saint Valéry Dove possiamo notare Appunto Che La essenzialità Artistica E astrattista Alla quale è giunto Braque Si sposa molto bene In maniera perfetta Con le peculiarità Dell'arte Della vetrata Infatti Queste forme piatte Che si incastrano E vengono saldate Con la saldatura A piombo Risultano molto efficaci Per rappresentare In questo caso Scene bibliche Personaggi appunto Sempre delle scritture E anche elementi naturalistici Come questo albero di Gesse Dunque Qui Ci fa In questo lavoro Braque Emula Quasi Matisse Infatti Proprio Più o meno Diciamo Nello stesso periodo Matisse aveva Costruito la sua cappella In Costa Azzurra Appunto Per celebrare Il divino Attraverso L'artisticità A 360 gradi Fovista In questo caso In Normandia Braque Utilizzerà Il suo Cosiddetto Cubismo No O Cubofovismo Per Creare Anzi Ricreare Questa Celebrazione Del divino Attraverso La peculiarità Delle sue Forme E soprattutto Dei suoi colori Che ritornano a essere Sgargianti Anche se lo spirito Della pittura cubista Resta sempre presente Nell'arte di Braque Questa sua ultima fase Viene definita Fase classica Nella quale propone Un'interpretazione Della natura Più fedele Tra virgolette Alla realtà Si dedica inoltre Anche alla scenografia Alla scultura Di opere in gesso Alle incisioni E al disegno Di gioielli È il caso Di Le Canard Opera litografica Da matrice in gesso Realizzata nel 1961 E come possiamo vedere Conservata presso La fondazione Magnani Rocca Di Mamiano Di Traversetolo In provincia Di Parma Dunque In questa sua Ultima fase Come abbiamo detto Inizia questa serie Degli uccelli Affascinato proprio Dal simbolo Ma non solo Ma proprio Dalla struttura Dei volatili E quindi Decide anche Di approdare All'arte grafica Infatti Ha capito Braque Che per Questa essenzialità Di cui aveva bisogno Dal punto di vista Stratistico La pittura Non tornava utile Ma serviva Una tecnica Più Appunto Essenziale Dunque L'incisione Calcografica In generale In questo caso Parliamo di litografia Però La cosa importante Da notare È che Braque Non usa La classica Pietra litografica Cioè Granito O appunto Pietre molto pesanti Molto dure Che vengono incise E poi inchiostrate Stampate Utilizza Matrice in gesso Dunque Unisce la sua anima Di scultore A quella di pittore E grafico La matrice in gesso Molto più morbida Gli permette Non solo di incidere Ma anche di aggiungere Parti Per far diventare La superficie Molto più scabra Dunque Poi segna L'artista Il tema centrale Del Cioè il campo centrale Della rappresentazione Incide appunto Il suo Soggetto E poi Si inchiostra E si va A stampare Dunque La tematica Come dicevamo Degli uccelli Risulta dominante In questa parte Della creazione Di Braque Ed è l'artista stesso Ad indicare Le ragioni genetiche Della sua ispirazione Che sono Di natura Specificatamente Pittorica Per evitare Una qualsiasi Interpretazione Simbolica Dunque Non è tanto La simbologia Importante In questo ciclo Di lavori Ma è proprio Sempre La ricerca Tecnica Braque dice Alcune settimane Fa Ero in Camargue Sopra gli stagni Ho visto passare Dei grandi uccelli Da questa visione Ho tratto Delle forme Aeree Gli uccelli Mi hanno ispirato Tento di estrarne Il miglior profitto Nel disegno In pittura Devo tuttavia Rifuggire Nella memoria La loro funzione Di uccelli Il concetto Anche dopo Lo shock Dell'ispirazione Che li ha fatti Sorgere nel mio spirito Deve cancellarsi Abolirsi Per meglio dire Per riavvicinarmi A ciò Che mi preoccupa Essenzialmente La costruzione Del fatto Pittorico Quindi Ammira Braque La linea La sinosità E anche Le fattezze Degli uccelli In quanto tali Però Queste loro caratteristiche Bisogna che Si eliminino Anzi Si aboliscano Come dice lui Dalla sua mente Per essere Ricostruite da zero In maniera Totalmente diversa E in maniera Appunto Molto più personale Dallo stesso Braque Nel fatto Pittorico Ecco come si procede Appunto Per la cosiddetta Astrazione pura Dalla realtà Tangibile Invece poi Alla ricostruzione Totalmente mentale Del soggetto Questa litografia Come possiamo vedere Presenta un fondo Bipartito Verticalmente Nero E azzurro Contro il quale Si staglia La sagoma bianca Dell'anatra Che sembra Volare Dalle tenebre Verso la luce Cioè Dalla notte Verso il giorno D'altra parte René Desoliers Uno dei più Accreditati Interpreti Dell'arte Di Braque Ha rilevato In queste sue opere L'assenza Di dinamiche Ascensionali Dunque Verticali E quindi Delle correlate Simbologie Braque diceva Che la simbologia Non c'entrava niente Però secondo René Appunto Desoliers Una sorta Di minima simbologia Doveva assolutamente Eserci Perché queste Composizioni Sono tutte Orizzontali Dunque c'è sempre Questo movimento Da sinistra Verso destra O viceversa Che deve avere Assolutamente Una sorta Di interpretazione E infatti Poi ce l'avrà Grazie proprio A una frase Dello stesso Braque Lo stesso critico Poi ha sottolineato L'aspetto rigido Dei volatili Ricreati Dall'artista A forza Di tocchi Sovrapposti Di materia Spessa Che si muovono In uno spazio Denso Solido Reso attraverso Un impasto Estremamente Corposo Caratteristiche Queste ultime Che il procedimento Litografico Da matrice In gesso Rende con una Buona precisione Grazie alla superficie Irregolare Scabra Sulla quale Si realizza La figurazione Dunque con Le Canard Emergono Alcune caratteristiche Essenziali Tipiche Della pittura Di Braque Cose che Ovviamente Aveva già Nel primo periodo Della sua carriera Ma che ritornano In maniera Prepotente Innanzitutto La sobrietà Assoluta Nella resa Dello spazio Quindi Quella Essenzialità cubista Che si è portata Dietro per tutta la vita Le forme Semplificate E appiattite Che in effetti Sembrano più Incisioni rupestri Piuttosto che Rappresentazioni Appunto Moderne La selezione cromatica Rigorosissima Ristretta In questo caso A tre colori Nero Bianco E azzurro Rigore Appunto Che differiva Da quello Di Picasso Secondo poi Le parole Di Jean Paulin L'immagine Di un uccello In volo Comparve Per la prima volta Su uno Dei cahiers Di Braque Accompagnato Dalla seguente Riflessione Ecco forse L'interpretazione In conscia Che lo stesso Braque Diede In uno Dei suoi cahiers Appunto Tacquini di appunti Sui quali Scriveva Una frase Proprio Per ragionare Su questo Tema Dei volatili Degli uccelli Infatti Braque Scrisse Senza tregua Corriamo Dietro Al nostro Destino Quindi Ecco perché Il movimento È sempre O quasi sempre Appunto Orizzontale È una Riproposizione Di questa frase Di Dell'umanità Intera In generale Che corre Sempre dietro Al suo Destino Ovviamente Per farci capire Quanto i pittori Avanguardisti Furono anche Ottimi Diciamo Pensatori E ricercatori Dal punto di vista Letterario Riconosciuto Universalmente Come uno Dei maggiori Pittori Del ventesimo Secolo Georges Braque Muore Il 31 Agosto 1963 Presso Parigi Però Venne sepolto Come possiamo Vedere Nel cimitero Marino Di Varenville Surmer Proprio in Normandia Quindi Muore a Parigi E viene Ritrasferito Nella tomba Che aveva prontato Per lui E sua moglie In Normandia Infatti qua Vediamo proprio La tomba Di Georges E Marcel Braque Per Diciamo Ritornare A quel legame Stretto Con l'ambiente Naturale Che tanto Gli era caro E gli è stato caro Nella sua Artisticità Picasso Una delle tante volte Che veniva Interrogato Sul suo rapporto Con Braque Un giorno Disse una frase Molto importante E che ci fa capire Che importanza Poi sostanziale Ha avuto La ricerca Di Braque Proprio Nella pittura E non solo Picasso disse Braque E James Joyce Sono Gli incomprensibili Che tutti Capiscono Dunque Con questa Frase Picasso Racchiude Questa rigorosità Di Braque Che ovviamente Viene associata A quella di James Joyce Dunque Due artisti Molto coscienziosi E anche molto severi Dal punto di vista Della costruzione Delle opere D'arte Infatti Ricordiamo Che anche L'Ulisse Di Joyce È una vera Pietra miliare Proprio grazie A questa Rigorosa Ricerca Di Joyce Dunque Vengono Appunto Associati Da Picasso Che ci Suggerisce Appunto Erano talmente I due Rigorosi Severi Quindi Incomprensibili Però La loro arte Poi Si risolveva In un qualcosa Di comprensibile Assolutamente A chiunque Dunque Ecco perché Braque E Joyce Vengono definiti Da Picasso Gli incomprensibili Che tutti Capiscono E Diciamo Per chiudere Il discorso Vediamo Che Dalla stessa Tomba Di Braque Esce fuori Un mosaico Un mosaico Proprio Su tema Volatile Quindi Ritorna Ancora una volta Questa Tematica Cara A Braque Proprio Degli uccelli Che viene Impresso Per sempre Sulla Sua Sepoltura Cosa Che ci fa Immaginare Che anche In questo caso Anche Dopo morto George Braque Ci ripeta Sempre Quella sua Fatidica Frase Che senza Tregua Anche noi Corriamo Dietro Il nostro Destino Detto Questo Concludo Anche per Oggi La nona lezione Di 20 Nuove Correnti Tra Avanguardia E Astrettismo Sperando Di essere Stato Sempre Abbastanza Chiaro Nella Esposizione Dei Fatti E Dei Concetti Vi ringrazio Ovviamente Per Come sempre Per la Partecipazione La costanza La pazienza L'affetto Che ci accordate Ogni Settimana Dunque Procedo Con L'interruzione Della Condivisione E Anche Della Registrazione E Lascio La parola Ovviamente C'è C'è è